le avventure di pinocchio di carlo colloti letto da libri in pillole capitolo 34 pinocchio gettato in mare è mangiato dai pesci e ritorna ad essere un burattino come prima ma mentre nuota per salvarsi è ingoiato dal terribile pesce cane dopo 50 minuti che il ciuchino era sott'acqua il compratore disse discorrendo da sé solo a quest'ora il mio povero ciuchino zoppo deve essere ben affogato ritiriamolo dunque su e facciamo con la sua pelle questo bel tamburo e cominciò a tirar la fune con la quale lo aveva legato per una gamba e tira 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 alla fine vide apparire a fior d'acqua indovinate invece di un ciuchino morto vide apparire a fior d'acqua un burattino vivo che scodinzolava come un'anguilla vedendo quel burattino di legno il povero uomo crede di sognare e rimase lì intontito a bocca aperta e con gli occhi fuori della testa riavutosi un poco dal suo primo stupore disse piangendo e balbettando il ciuchino è gettato in mare dove va quel ciuchino sono io rispose il burattino ridendo tu io ah mariolo pretendesti forse di burlarti di me burlarmi di voi tutt'altro caro padrone io vi parlo sul serio ma come mai tu che poco fa eri un ciuchino ora stando nell'acqua sei diventato un burattino di legno sarà l'effetto dell'acqua del mare il mare ne fa di questi scherzi vada burattino vada non credere di divertirti alle mie spalle guai a te se mi scappa la pazienza ebbene padrone volete sapere tutta la vera storia scioglietemi questa gamba io ve la racconterò quel buon pasticcione del compratore curioso di conoscere la vera storia gli sciolse subito il nodo della fune che lo teneva legato e allora pinocchio trovandosi libero come un uccello nell'aria prese a dirgli così sappiate dunque che io ero un burattino di legno come sono oggi ma mi trovavo a tocco e non tocco di diventare un ragazzo come in questo modo ce ne è tanti se non che per la mia poca voglia di studiare e per dar retta a cattivi compagni scappai di casa e un bel giorno svegliandomi mi trovai cambiato in un somaro con tanto d'orecchi e con tanto di coda che vergogna fu quella per me una vergogna caro padrone che sant'antonio benedetto non la faccia provare neppure a voi portato a vendere sul mercato degli asini fu comprato dal direttore di una compagnia equestre il quale si messe in capo di far di me un gran ballerino o un gran saltatore di cerchi ma una sera durante lo spettacolo feci in teatro una brutta cascata e rimasi zoppo da tutte e due le gambe allora il direttore non sapendo che cosa farsi di un asino zoppo mi mandò a rivendere e voi mi avete comprato purtroppo e ti ho pagato 20 soldi e ora che mi rende i miei poveri 20 soldi e perché mi avete comprato voi mi avete comprato per fare con la mia pelle un tamburo un tamburo purtroppo e ora dove troverò un'altra pelle non vi date alla disperazione padrone dei ciuchini ce n'è tanti in questo mondo dimmi monello impertinente e la tua storia finisce qui no rispose il burattino ci sono altre due parole poi è finita dopo avermi comprato mi avete condotto in questo luogo per uccidermi ma poi cedendo a un sentimento pietoso d'umanità avete preferito di legarmi un sasso al collo e di gettarmi in fondo al mare questo sentimento di delicatezza vi onora moltissimo e io ve ne serverò eterna riconoscenza peraltro caro padrone questa volta avete fatto i vostri conti senza la fata e chi è questa fata è la mia mamma la quale somiglia a tutte quelle buone mamme che vogliono un gran bene ai loro ragazzi e non li perdono mai d'occhio e li assistono amorosamente in ogni disgrazia anche quando questi ragazzi per le loro scapataggini e per i loro cattivi portamenti meriterebbero di essere abbandonati e lasciati in balia se stessi dicevo dunque che la buona fata appena mi vide in pericolo di affogare mandò subito intorno a me un branco infinito di pesci i quali credendomi davvero un ciuchino bello e morto cominciarono a mangiarmi e che bocconi facevano non avrei mai creduto che i pesci fossero più ghiotti anche dei ragazzi chi mi mangiò gli orecchi chi mi mangiò il muso chi il collo e la criniera chi la pelle delle zampe chi la pelliccia della schiena e fra gli altri vi fu un pesciolino così garbato che si degnò perfino di mangiarmi la coda da oggi in poi disse il compratore inorridito faccio giuro di non assaggiare più carne di pesce mi dispiacerebbe troppo di aprire una triglia un nasello fritto e di trovargli in corpo una coda di ciucho io la penso come voi replicò il burattino ridendo del resto dovete sapere che quando i pesci ebbero finito di mangiarmi tutta quella buccia asinina che mi copriva dalla testa ai piedi arrivarono come naturale all'osso o per dir meglio arrivarono al legno perché come vedete io sono fatto di legno durissimo ma dopo dato i primi morsi quei pesci ghiottoni si accorsero subito che il legno non era ciccia per i loro denti e nauseati da questo cibo indigesto se ne andarono chi la chi in qua senza voltarsi nemmeno a dirmi grazie ed eccovi raccontato come qualmente voi tirando sulla fune avete trovato un burattino vivo invece di un ciuchino morto io mi rido della tua storia gridò il compratore imbestialito io so che ho speso venti soldi per comprarti e rivoglio i miei quattrini sai che cosa farò ti porterò da capo al mercato e ti rivenderò a peso di legno stagionato per accendere il fuoco nel caminetto rivendetemi pure io sono contento disse pinocchio ma nel dir così fece un bel salto e schizzò in mezzo all'acqua e nuotando allegramente e allontanandosi dalla spiaggia gridava al povero compratore addio padrone se avete bisogno di una pelle per fare un tamburo ricordatevi di me e poi rideva e seguitava a nuotare dopo un poco rivoltandosi indietro urlava più forte addio padrone se avete bisogno di un po di legno stagionato per accendere il caminetto ricordatevi di me fatto sta che in un batter d'occhio si era tanto allontanato che non si vedeva quasi più ossia si vedeva solamente sulla superficie del mare un puntolino nero che di tanto in tanto rizzava le gambe fuori dall'acqua e faceva capriole e salti come un delfino in vena di buon umore intanto che pinocchio nuotava all'avventura vide in mezzo al mare uno scoglio che pareva di marmo bianco e su in cima allo scoglio una bella caprettina che velava amorosamente e gli faceva segno di avvicinarsi la cosa più singolare era questa che la lana della caprettina invece di essere bianca o nera o pallata di più colori come quella delle altre capre era invece turchina ma ad un turchino così sfolgorante che rammentava moltissimo i capelli della bella bambina lascio pensare a voi se il cuore del povero pinocchio cominciò a battere forte raddoppiando di forza e di energia si die a nuotare verso lo scoglio bianco ed era già a mezza strada quando ecco uscir fuori dall'acqua e venirgli incontro un orribile testa di mostro marino con la bocca spalancata come una voragine e tre filari di zanne che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte e sapete chi era quel mostro marino quel mostro marino era né più né meno quel gigantesco pesce cane ricordato più volte in questa storia e che per le sue stragi e per la sua insaziabile voracità veniva soprannominato l'attila dei pesci e dei pescatori immaginatevi lo spavento del povero pinocchio alla vista del mostro cercò di scansarlo di cambiare strada cercò di fuggire ma quella immensa bocca spalancata gli veniva sempre incontro con la velocità di una saetta affrettati pinocchio per carità gridava belando la bella caprettina e pinocchio notava disperatamente con le braccia col petto con le gambe e coi piedi corri pinocchio perché il mostro s'avvicina e pinocchio raccogliendo tutte le sue forze raddoppiava di lena nella corsa bada pinocchio il mostro ti raggiunge eccolo eccolo affrettati per carità o sei perduto e pinocchio a nuotare più lesto che mai e via via e via come andrebbe una palla di fucile e già era presso allo scoglio e già la caprettina spenzolandosi tutta sul mare gli porgeva le sue zampine davanti per aiutarlo a uscire dall'acqua ma ma oramai era tardi il mostro lo aveva raggiunto il mostro tirando il fiato a sé si beve il povero burattino come avrebbe bevuto un uovo di gallina e poi lo inghiottì con tanta violenza e con tanta avidità che pinocchio cascando giù in corpo al pesce cane batte un colpo così screanzato da restarne sbalordito per un quarto d'ora quando ritornò in seda quello sbigottimento non sapeva raccapezzarsi nemmeno lui in che mondo si fosse intorno a sé c'era da ogni parte un gran buio ma un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno di inchiostro stette in ascolto e non sentì nessun rumore solamente di tanto in tanto sentiva battersi nel viso alcune grandi buffate di vento da principio non sapeva intendere da dove quel vento uscisse ma poi capì che usciva dai polmoni del mostro perché bisogna sapere che il pesce cane soffriva moltissimo d'asma e quando respirava pareva proprio che soffiasse la tramontana pinocchio sulle prime si ingegnò di farsi un po di coraggio ma quando ebbe la prova e la riprova di trovarsi chiuso in corpo al mostro marino allora cominciò a piangere e a strillare e piangendo diceva aiuto aiuto povero me non c'è nessuno che venga a salvarmi chi vuoi che ti salvi disgraziato disse in quel buio una vociaccia fessa di chitarra scordata chi è che parla così domandò pinocchio sentendosi gelare dallo spavento sono io sono un povero tonno inghiottito dal pesce cane insieme con te e tu che pesce sei io non ho che veder nulla coi pesci io sono un burattino e allora se non sei un pesce perché ti sei fatto inghiottire dal mostro non sono io che mi son fatto inghiottire gli è lui che mi ha inghiottito e ora che cosa dobbiamo fare qui al buio rassegnarsi e aspettare che il pesce cane ci abbia digeriti tutte e due ma io non voglio essere digerito urlò pinocchio ricominciando a piangere neppure io vorrei essere digerito soggiunse il tonno ma io sono abbastanza filosofo e mi consolo pensando che quando si nasce tonni c'è più dignità a morir sott'acqua e sott'olio scioccherie gridò pinocchio la mia è un'opinione replicò il tonno e le opinioni come dicono i tonni politici vanno rispettate insomma io voglio andarmene di qui io voglio fuggire fuggi se ti riesce è molto grosso questo pesce cane che ci ha inghiottiti domandò il burattino figurati che il suo corpo è più lungo di un chilometro senza contare la coda nel tempo che faceva questa conversazione al buio parve a pinocchio di vedere lontano lontano una specie di chiarore che cosa sarà mai quel lumicino lontano disse pinocchio sarà qualche nostro compagno di sventura che aspetterà come noi il momento di essere digerito voglio andare a trovarlo non potrebbe darsi il caso che fosse qualche vecchio pesce capace di insegnarmi la strada per fuggire io te l'auguro di cuore caro burattino addio tonno addio burattino e buona fortuna dove ci rivedremo chi lo sa è meglio non pensarci neppure